Eccellenza anche da parte sua, allora un augurio di buon Natale per i nostri teleascoltatori? Allora, gli auguri quando si fanno, si fanno come dire con quella verve che è tipica di un momento di festa. Gli auguri però in questo caso sono per la festa, sicuramente del Natale, con tutti i risvolti che la cristianità ci richiama, e quindi prima di tutto quelli. Poi perché il Natale possa costituire un momento per le famiglie in cui si ritrovino non tanto vicino alla tavola a mangiare insieme, quello lo faranno sicuramente, ma ritrovino quella pace familiare che magari questa pandemia potrebbe aver compromesso. Ecco, io questo è l'augurio che faccio a tutti, di poter trascorrere un Natale sereno, in famiglia e soprattutto con quelle cautele, assumendo sempre le cautele perché purtroppo è così, che non sono soltanto quelle nelle quattro mura di casa, ma anche quando si esce fuori, la mascherina, il distanziamento e quant'altro, deve ancora sorreggere i nostri rapporti interpersonali. Auguri, auguri davvero.